buongiorno a tutti ragazzi qui è sempre di uno schienato da yearforex.com e in questo video parlerò di una cosa molto semplice è una pillolina veramente rapida ma che magari semplice soprattutto ma che magari tante volte non si guarda o non ci si focalizza su quella e magari con cose anche un po' più difficili si cerca di fare trading e spesso con risultati un po' scadenti ed è questa ricordatevi sempre che se volete fare price action e quindi se volete basarvi per fare trading esclusivamente sulle dinamiche nude dei prezzi sui livelli di domanda e offerta sui macro trend di mercato e sulla volatilità e quindi non seguire le notizie non seguire nulla quello che è macroeconomico la cosa importante che dovete fare è quella di avere un time frame importante da seguire perché quello è la vostra mappa e la vostra mappa nel mercato del forex se volete fare l'approccio che faccio io con la price action tra parentesi sapete che sono stato il primo in italia tanti anni fa prima del 2010 a portare questo approccio a tutti in italia chiudo parentesi è il grafico settimanale il weekly chart è il grafico più importante nel mercato del forex più importante anche del daily il weekly è il più importante di tutti più importante anche del mensile il weekly è il più importante di tutti perché il weekly nel mercato del forex è la vera chiusura del mercato il grafico settimanale è l'unico grafico che ci mostra le chiusure e le aperture reali del mercato forex il mercato del forex lo fanno le grandi banche i market maker quindi le banche d'affari principali che danno liquidità a questo mercato nell'interbancario danno liquidità quindi danno i prezzi e questi broker diciamo questi sbagliato broker queste banche importanti che danno liquidità al mercato sono chiuse il sabato e la domenica non sono aperte e le quotazioni il sabato e la domenica sono chiuse realmente sul mercato del forex non sono aperte cioè la vera clause settimanale la vera clause del forex è settimanale non è né daily né mensile quindi seppur è molto importante il daily perché perché ci sono i flussi di quella giornata che anche da altri mercati ovviamente arrivano e quindi in linea di massima passano tutti per il mercato delle valute perché è il mercato più basico di tutti però la chiusura settimanale è la vera chiusura e quindi la nostra mappa è sul settimanale la nostra mappa sul settimanale che ci indica trend in macro trend da seguire perché è più facile lì i livelli importanti domande offerta la volatilità e le informazioni delle nostre candele quello che ci dicono che poi fa anche parte della volatilità quindi se noi andiamo a prendere questo grafico di euro dollaro daily e facciamo così boom capite che tipo di macro trend c'è e i livelli più importanti se io vado sulla sterlina e faccio così boom capite che tipo di macro trend c'è e che tipo di livelli se io vado sul dollaro yen e guardate il daily e poi mettete il weekly capite che macro trend c'è e riuscite a capire meglio i livelli se io prendo l'australia e vado a prenderla sul daily e poi metto il weekly capite che macro trend c'è e capite anche i livelli e poi vado ancora sul neozelandese e vado sul daily questo è il daily vado sul weekly e vedete che tipo di trend c'è vado sul dollaro canada vado sul daily vado sul weekly capisco che trend c'è e quali sono i livelli più importanti vado sul dollaro franco questo è il daily bene vado sul weekly capisco la mia mappa avete visto? cioè tutto è chiaro pochi time frame ma quelli importanti è inutile andare a cercare conferme sul grafico a 15 minuti abbiamo un grafico weekly che ci indica tutto ci indica la vola ci indica il macro trend ci indica i livelli ci indica le informazioni operative date da una o più candele quindi il weekly deve essere la mappa per ogni price action naked trader non esiste altro il weekly è il grafico più importante io con questa vi saluto vi auguro una buona continuazione di giornata spero di essere stato utile con questo video vi chiedo se ovviamente il video è piaciuto di mettere un like se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi e ci vediamo al prossimo video naturalmente un buon trading simple a tutti ciao